Dopo la rapina di ieri ai danni di una gioielleria in Piazza Grassia, Fiumicino si scatena la polemica sulla sicurezza. È duro il commento del consigliere Mauro Gonnelli, che la situazione sia ormai sfuggita di mano e palese a tutti, ma non al delegato alla sicurezza, che continua a far finta di nulla. Fiumicino è ormai terra di conquista, rapine e furti sono all'ordine del giorno e la risposta di questa amministrazione qual è? Tagliare il progetto di videosorveglianza e l'assunzione di 35 agenti della polizia locale. Inoltre vorremmo sapere che fine ha fatto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, annunciato per aprile. Immediata la replica di Megna, anche nei dieci anni in cui Canapini è stato sindaco si erano verificati furti e rapine, i volontari sono l'unica vera risposta che l'amministrazione può dare. In passato Megna aveva definito il progetto delle telecamere dall'efficacia, tutt'altro che garantita, ma anche su questo punto arriva la stoccata dell'opposizione. Non è vero, ha detto il consigliere William De Vecchis, perché Roma Capitale installerà presto centinaia di telecamere, la cui efficacia è stata certificata dal comandante provinciale dei Carabinieri Salvatore Luongo. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Esterino Montino. Sono convinto che le forze dell'Ordine faranno tutto il possibile per assicurare i malviventi alla giustizia. Posso garantire che da parte dell'amministrazione l'attenzione è costante, ha detto il primo cittadino. Nel frattempo stiamo lavorando per ospitare il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Sarà quella l'occasione per chiedere al prefetto di Roma un potenziamento delle forze dell'Ordine sul territorio.